Bella ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno del negozio oggetti, nella sezione supporto a un creatore, inserite il codice FORTU, poi accettate, da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto. Grazie a tutti quelli che lo faranno. Ciao a tutti ragazzi, qui è Fortumark che parla, benvenuti in un video. Oggi ragazzi, primissima vittoria all'interno della stagione 11 di Fortnite 2, quindi stagione 1, non l'ho ancora ben capito. Comunque ragazzi, volevo dirvi che questa season veramente mi piace un sacco, sono state aggiunte cose, sono state levate altre, ma comunque molte cose verranno implementate con i prossimi aggiornamenti. In generale, dico che la stagione mi piace, vi lascio quindi la mia prima win senza prolungarmi troppo in chiacchiere e magari alla fine facciamo qualche altro appunto in generale su cosa mi piace e cosa no. Intanto ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale se non si è già iscritti, attivare la campanellina e quindi vi lascio al game. È proprio l'intro per quando entro in game, infatti, cioè, voglio dire, come la levo? Fico, ragazzi. Ah, ragazzi, che figata. Così, che cosa è? Così. What? Ma cos'è questa figata? Non mi fa vedere la mappa, dov'è la mappa? No, ragazzi, i comandi, 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 ragazzi, comandi. Chi cavo ho? No, ragazzi, io non c'avevo i comandi così. Devo rimettere i comandi. Non sono i miei comandi, guys. Ok Ma perché la rosa È così brutta Ma che è Ma è Call of Duty È un fucile a pompa questo coso Sì Ma che è Ragazzi ma che bello E che brutto Allo stesso tempo Ma è stupendamente Orrendo questo gioco Che bello Oddio Ma che che Ma sembra veramente Un Fortnite 2 Ragazzi Ragazzi Era un Fortnite 2 Assolutamente Battle medal Sì vabbè ragazzi Ma è easy Cioè è easy Non lo so Sono tutti scemi Sto gioco Ma mica sono bot Ragazzi Questi sono bot Cioè ragazzi Dai questi sono i bot Per forza Non ci possono essere Playere così stupidi Non ci voglio credere Figa ragazzi La grafica Hanno rifatto i modelli Tutto Cioè veramente ragazzi Sto gioco fa abuso così Mamma mia Che figata Ragazzi Questi sono bot Cioè si vedono però eh Cioè questo era bot No ragazzi Ma questi sono bot Dai Si sente troppo ragazzi Che sono dei bot Cioè questo è un bot Ragazzi Questo è un bot Dai Raga Questi sono bot Controllati dal gioco Non sono giocatori reali Un giocatore del genere Cioè non l'ho voluto Sparare subito apposta Ma che Cioè figo Perché l'ho eliminato Ma Sono bot Ah ma su tutti i bot Cioè forse è il primo game Che mi da tutti i bot Quindi è inutile Che ci pubbliche il video Cioè che l'ho riposto La mia prima vittoria Perché probabilmente La farò Cioè quelli che incontro Ora sono tutti i bot Ragazzi Tutti dal primo all'ultimo Nella prima partita Sembra siano solo bot Ah ok Infatti si Che sarebbe strano Cioè non ha senso È probabile ragazzi Che nella prima partita Siano solo bot Vabbè io comunque Nel caso ve la repubblico Sul canale Perché sarebbe comunque La mia prima vittoria Su Fortnite Quindi ok Però ragazzi E quelli sono bot Credo c'è Che la partita così Diventa molto più semplice A parte che ho la vibrazione Per quando costruisco Ragazzi aspettate Comunque ragazzi Questa partita è nostra Eh dobbiamo fare La prima vittoria Con un sacco di kill Dato che sto tutti i bot Approfittiamone Che sto facendo ragazzi Tutti i bot Allora ok FortiGamer accetta la sfida Questi ce li massacriamo Qua come si fa ragazzi C'è un oggetto Per farlo Un emoticon Prova a fare il 90 please Va bene bro Va Che ha di strano Il 90 Si può fare Si può fare Ragazzi Ho utilizzato 200.000 Per fare Questa stronzata Però si può fare Che strana Una mappa ragazzi Da pure un sacco Di materiali Chissà se il game Normal è così Che questa mitraglietta Spara così E non è silenziata Ti dà 50 Di vita Ogni kill Si ragazzi C'è il siphon Non ci ho fatto caso Mi pareva di no Me ne sarei accorto La vita tra l'altro Rai in basso a sinistra C'è Tra l'altro La cosa delle kill C'è Il punto di esperienza In basso La tipo call of duty Molto carina come cosa L'apprezzo molto Ragazzi Questo è un bot però Si Si ragazzi Sono bot Queste Un giocatore normale Non farebbe così Un giocatore normale Non farebbe così Bru è la tua prima partita Si bro La mia primissima partita Un giocatore normale Non si comporterebbe In questo modo Assolutamente Fatto il boss 2 Ok Cool Si Allora Ragazzi Non vi sparate Che tanto siete bot Oh Oh Ma che che Ma che sta bot Come si muove Ragazzi Oh Ok Si è tutto strano Monfred Aveva una velocità media Che Era uguale a quella Del mio mirino Quindi lui si muoveva Alla stessa velocità In modo da non farsi sparare Questi bot Eh vabbè Quest'altro è mai morto Questi bot Fanno variare C'è tra l'altro Questo teneva Il nome in russo Come se poi il gioco Vogesse farmi credere Che mi hai joinato Ne serve Asiatici Questa cosa è carina Lancia razzi ragazzi Lo proviamo Lasciate i medikit Non c'ho un falò No ragazzi C'ho solo trappole Ma che Ok Il bruci la pompa Devo ancora utilizzarlo Come spara Vabbè Il fucile la pompa Del nonno Non è più nemmeno Che che Oh Maffame Ma dove sta sparando Sto tipo C'ho un nemico di fianco No Chissà che stava sparando Ti immagini Ti uccido un bot Ragazzi Se mi uccido il bot Vi autorizzo A venirmi a picchiare Fino sotto casa Esatto In questo modo ragazzi Proprio così Ups No ragazzi Comunque quei botti abusi Eddie sei troppo famoso Vorrei fare una foto con te Ragazzi ci sono i miei amici Di classe In basso Che sono dei deficienti Si stanno prendendo Ma che cavolo Ragà ma il bloom È ridicolo Il bloom Oh 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 Frero Il bloom Di questo gioco È veramente ridicolo Che cavolo ci hanno fatto All'M4 Una volta mirava I proiettili Vanno dove dice lui A parte che Quel tipo se ne sta andando Abbott Abbott Oh Che cazzo Easy Mi hanno tolto il barret Io per ora ho trovato Sulle fucile di precisione standard Questo qui L'unico che ho trovato C'è anche il bust rifle Utiliziamo questo No ok La realtà è più bassa Quindi mi tengo il mio Vabbè raga 12 kill Primo game Ci proviamo Ho solo trappole Ma hanno lasciato mica Solo le trappole Ragazzi Spero di no Vabbè ragazzi La prima win easy Perché questi Credo siano tutti i bot Ragazzi Il bloom È molto Molto brutto Quello dell'M4 È enorme Ma se vinci con i bot Conta come vittoria Con dell'ombrello Bro Vediamo Ok Ok Vorrei provare a finire L'ultimo game Con Facciamo l'ultima kill Con lanciarazzi Ragazzi Mi davo l'assalto Che dite Questo che è Vediamo com'è Ok Questo è praticamente Il Credo sia come il barret Però c'è da vedere Quanti Quanti danni fa Gli stessi skin Non lo so ragazzi Sinceramente Vediamo Le vittorie contano Boh ragazzi Vediamo Vediamo Credo di sì Credo di sì Ma comunque la carriera Si resetta No Io comunque ho tutte le mie vecchie Win Teoricamente Non lo so ragazzi Ma questi bot dove stanno Si sono buggati nell'acqua No questi bot Io lo so ragazzi Che questi bot sono buggati in acqua Io ne sono più che certo Cioè una volta che abbiamo Portato a casa la vittoria Ah Portato a casa la vittoria Mi iniziano a sparare Mi massacrano Buonasera Sì proprio lei Mi sono eliminato da solo Sono troppo intelligente Regà Questa è la potenza ragazzi Questa è la potenza Guarda che puoi nuotare Senza rallentamento Sì bro Però come fai? Costruisci? Cioè se qualcuno gli spara Che devi fare? Ragazzi sono troppo forte Sono troppo forte Sono troppo forte Dove sta il nemico? Ma mi sta trollando Cioè mi sto facendo trollare Da un bot ragazzi No scusami Ho tutto il bene per i bot Però farsi trollare Da Da distractor Zero tre Che L'unica cosa che c'è di zero tre È il nome Perché È un bot L'ultimo ce lo trappiamo Ragazzi dai Bello E se perdo la mia prima Vittoria Cioè se non faccio la mia prima Se perdo la mia prima partita A caso di un bot Che non si fa trollare Da una tre Ci sarebbe veramente È morto nella safe Ok ragazzi Che schifo di partita Quindi da noi pubblicare Bella ragazzi Bella youtube Bella canale Questo è un video Ciao ragazzi Bello questo No cazzo da parte Bello questo fortnight Mi piace ragazzi Veramente figo Quindi ragazzi L'avete visto Una partita abbastanza sempliciotta Specialmente per il numero di bot Che abbiamo trovato In generale Il numero di bot Deve ancora capire ragazzi Com'è E quanto effettivamente I bot Si trovino in partita Per ora direi Che un quarto Dei nemici che trovi Sono bot La cosa non mi piace troppo Però comunque Da analizzare Da vedere come verrà sviluppata In futuro E ancora in fase di test Praticamente Quindi va bene così Ragazzi Questo è quanto Vi ricordo di iscrivervi Al canale Se non siete iscritti Attivare la campanellina Utilizzare all'interno Del negozio Sempre solo Codice creatore fort Ragazzi Perché se acquistate Qualcosa col mio codice creatore E pubblicate una story Su instagram In cui mi taggate Mentre acquistate qualcosa Col mio codice Vi riposto sul mio Profilo instagram Ufficiale Quindi niente ragazzi Ci becchiamo alla prossima Sempre a schede Sempre in boys Ciao